Rapina un'anziana alla faccia della terra e la ferisce, ma viene scoperto ed arrestato dai carabinieri. È successo giovedì pomeriggio alle porte del centro cittadino di Arezzo, dove un ragazzo si è avvicinato ad una sessantenne che passeggiava in via Isonzo e gli ha strappato la borsetta. La donna, scaraventata a terra, è stata trascinata per alcuni metri, riportando una forte contusione alla spalla e al polso. Nella zona fortunatamente però in quel momento stava transitando una pattuglia dei carabinieri per il consueto monitoraggio del territorio, che è immediatamente intervenuta e dopo un breve inseguimento ha blocchiato il giovane. I militari quindi hanno proceduto alla perquisizione e addosso all'uomo, ben occultato, hanno trovato il portafogli della signora. Il 28enne è stato così arrestato per il reato di rapina. Il Tribunale di Arezzo ha disposto per lui la misura della custodia cautelare in carcere. Adesso si trova recluso nel carcere fiorentino di Solliciano. I militari hanno anche accompagnato la vittima dello scippo al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo per le cure del caso, dove le sono stati riscontrati sette giorni di prognosi per distorsione rachide cervicale.